È tempo di riorganizzazione all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Oggi il taglio del nastro per i nuovi otto posti letto di terapia subintensiva all'interno del reparto di malattie infettive diretto dal dottor Alessandro Grimaldi, riservati ai malati che manifestano sintomi gravi da coronavirus. Questo fa parte del piano di riorganizzazione dell'ospedale aquilano dopo l'emergenza sanitaria. A fine mese sarà pronto anche il modulo accanto al pronto soccorso, messo a disposizione della protezione civile con altri 15 posti di subintensiva con ventilatori. Oggi è un giorno importante perché è la giornata dedicata al covid e proprio in questa giornata noi inauguriamo a distanza di un anno la prima tranche di posti letto riconvertiti nella unità operativa di malattie infettive dell'Aquila riconvertiti in terapia semintensiva. Come vedete alle mie spalle abbiamo tutte le dotazioni per questo tipo di trasformazione che leverà ulteriormente gli standard di questo reparto che quando siamo partiti l'anno scorso nell'emergenza era poi l'unico d'Abruzzo che aveva tutte le stanze a pressione negativa. Quindi è un ulteriore miglioramento che ci permetterà di offrire ai nostri pazienti un elevato livello di assistenza sperando che alla fine poi si possa uscire nel migliore dei modi da questa pandemia e che tutti i pazienti una volta ricoverati ce la possano fare. Ieri invece al Delta 7 sono stati inaugurati nuovi spazi di medicina riabilitativa del dottor Giorgio Spacca. Qui potranno essere seguiti anche i pazienti covid che hanno bisogno di recupero motorio e respiratorio. Con lo spostamento al pian terreno del Delta 7 il reparto potrà disporre dopo la pandemia anche degli spazi al terzo piano usati ora per il ricoveri covid. A fine emergenza la medicina riabilitativa prenderà il posto della medicina covid. Significativa la data di oggi dedicata a tutte le vittime del covid.